La permanente situazione del Paolo Borsellino di Marsala, ospedale Covid, dallo scorso novembre, è stato oggetto di acceso dibattito ieri sera in Consiglio Comunale. Al termine della seduta, all'unanimità, è stato deciso di occupare l'aula di Palazzo Settaprile quale segno di protesta per la mancanza di ascolto da parte dell'ASP di Trapani e della Regione. In precedenza, infatti, l'assise civica aveva inviato un documento unitario alle suddette istituzioni al fine di avere risposte certe sul futuro dell'ospedale di Marsala e nel quale i consiglieri lamentavano che, oltre ad essere strutture Covid, il Paolo Borsellino è anche stato oggetto di trasferimento di strumentazione e personale. Il sindaco Grillo, già intervenuto nel corso del dibattito di ieri insieme al Consiglio, ribadisce la propria posizione. Oggi i consiglieri comunali hanno iniziato l'occupazione dell'aula consigliare e personalmente comprendo le ragioni dell'iniziativa perché al momento non c'è una programmazione. che, nella prospettiva di una graduale uscita dell'emergenza sanitaria e di un incremento delle vaccinazioni, tenga nella dovuta considerazione la nostra disponibilità a servire la comunità provinciale con un ospedale Covid. Situazione che ha avuto, come conseguenza, altrettanto grave, lo smantellamento del nostro presidio a beneficio di altri reparti ospedalieri della provincia, potenziati con le nostre attrezzature e su cui l'ASP ha già fissato programmi a lungo termine. Puntualizzato ciò, è ben inteso che, come ho sempre detto, ASP e Regione devono ammarsarla risposte certe sui tempi relativi ai lavori per il padiglione malattie infettive e al conseguenzale ripristino dello standard ospedaliero di primo livello. È pur vero che occorre una strategia d'azione che coinvolga i sindaci trapanesi al fine di formulare una proposta unitaria dell'ASP e del Governo della Regione, dalle quali pretendere risposte ricerte sulla programmazione ospedaliera siciliana che riguarda la comunità dell'intero territorio provinciale, non del singolo comune. Dobbiamo alzare la prospettiva se puntiamo alla soluzione del problema, altrimenti rischiamo uno scontro demagogico e il fallimento della politica tutta. Per questo ho sollecitato un incontro a trapanesi fissato, per sapere attraverso gli altri sindaci della provincia di potersi confrontare e formulare una proposta al commissario dell'ASP, in cui chiedere tempi e rivendicare certezze, non per i singoli territori, ma per la comunità trapanese. Attiviamoci tutti in una logica politica non divisoria e campanelistica, ma unitaria.